Arriva una squadra di sette operai della Reset a pulire il parco della favorita di Palermo, che è stato invaso dai rifiuti di tutte le persone che hanno fatto una scampagnata nello scorso weekend. Gli operai non sono intervenuti fino a ieri perché lavorano dal lunedì al venerdì. Probabilmente impiegheranno tre giorni per riuscire a pulire le tonnellate di rifiuti che tappezzano il parco, che fa parte della riserva naturale di Monte Pellegrino. Il parco tornerà pulito proprio prima della prossima ondata di persone, che faranno la classica scampagnata del primo maggio. I palermitani hanno lasciato spazzatura di ogni tipo, dalle sedie da picnic e gli ombrelloni, fino ad enormi distese di piatti e bicchieri di plastica. Grandi aree dove è rimasto il carbone per arrostire la carne e verdure di ogni tipo, insieme a bottiglie di plastica e di vetro. In realtà, vicino alle aree attrezzate per fare gite fuori porta, ci sono grandi cassoni, dove le persone potrebbero conferire i rifiuti in modo più civile e ordinato. Fino a stamattina, podisti e ciclisti, invece, sono stati costretti a fare sport tra sacchetti di spazzatura e rifiuti vari. Tutte le strade che costeggiano il parco hanno sacchetti di spazzatura che costeggiano i viali. Tutte le strade che costretti, invece, sono stati costretti di spazzatura.